Quale futuro per le famiglie sgomberate dalla casa parcheggio di via Garibaldi a Lanciano nel febbraio scorso per motivi di sicurezza riguardanti soprattutto il tetto? Oggi si è svolto un incontro in comune al quale hanno preso parte gli inquilini che dal 15 febbraio alloggiano in hotelle per i quali la convenzione scadrà domani, il sindaco Puvillo, il vice sindaco e le altre persone interessate. Le famiglie in questione erano state sgomberate dalla casa parcheggio di via Garibaldi da un'ordinanza del sindaco a causa del tetto pericolante. Qui come vedete dalle immagini di Andrea Berardinelli però non siamo in via Garibaldi bensì nel quartiere Santa Rita perché in queste case Ater dovrebbero trovare alloggio gli abitanti che al momento non possono rientrare nella casa parcheggio di via Garibaldi perché lì il comune sta facendo dei lavori. Allora vicino a me ho Marco Iasci delegato Asia USB Abruzzo associazione inquilini e abitanti. Le chiedo innanzitutto come è andato l'incontro di oggi. Beh l'incontro di oggi è andato benino nel senso che eravamo di fronte a una situazione emergenziale in cui il comune che è il responsabile diciamo dell'incuria del palazzo da cui sono stati sgomberate queste famiglie è praticamente arrivato a proporre a tre giorni dalla scadenza della convenzione con gli hotel diciamo per le famiglie dei piani alti che non potranno rientrare nelle case già in questa settimana e degli alloggi alternativi qui a Santa Rita però la proposta non prevedeva una diciamo formulazione completa si parlava di una somma di una tantum di 800 euro per trasloco e allaccio quando sappiamo dell'utente quando sappiamo che i prezzi sono molto più alti. Noi oggi dopo l'incontro siamo riusciti ad ottenere innanzitutto una proroga di una settimana per far permanere queste famiglie all'interno dei posti in cui si trovano adesso e in secondo luogo la possibilità di valutare una proposta che ci aspettiamo sarà maggiormente esaustiva. E siamo con alcuni degli inquilini purtroppo sgomberati. Siamo fortunati oggi a fare un'intervista con lei perché se c'era l'inguilino della casa di fronte non vedeva lo scembio che avevamo sulle nostre teste. Noi oggi forse non stavamo qui a raccontarle il tutto. Siete speranzosi? Il Comune ha detto che entro l'autunno dovrebbero finire i lavori. È difficoltoso, molto difficoltoso quindi speriamo che tutto questo si possa risolvere il più presto possibile. Lunedì ci sarà un nuovo incontro in comune con il sindaco in cui si cercherà di trovare una soluzione definitiva.